Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Sassogna di Fano, spiaggia libera invasa da decine di reti per molluschi La recensione di un privato riduce la visibilità per i ciclisti in transito sulla pista Fano-Fenile Sistema sanitario regionale, 2700 assunzioni nel 2016, Ceriscioli, Soddisfatto, più servizi e un calo delle liste d'attesa Il sindaco Seri si unisce ai maratonetti e vola in America, trasferta oltre l'oceano per Fano e la Colle Marathon Il rogo del pupo chiude l'edizione 2017 del Carnevale di Fano e strati in piazza Vetti in settembre i biglietti vincenti della lotteria Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia Questa sera apriamo il nostro telegiornale dando spazio alle vostre segnalazioni E cominciamo appunto dalla spiaggia di fronte a Viale Ruggeri, a Sassogna di Fano, invasa da reti per molluschi Guardate Hanno i nomi più disparati ed in commercio se ne trovano svariati modelli per forma e dimensioni Sono le reti per la miticoltura e molluschi Con esse si formano i pergolati dove vengono allevati in acqua per 13-15 mesi i mitili Ma il commercio ed i rivenditori specializzati non sono l'unico posto dove queste reti si possono trovare Se ne trovano anche sulle nostre spiagge, soprattutto in inverno e se ne contano a migliaia Una recente indagine di Lega Ambiente del maggio 2016, Beach e Liter, su 47 spiagge italiane Nella top 10 dei rifiuti più comuni, la rete d'acqua cultura è al quinto posto Ed è il 7,5% dei 33.500 rifiuti raccolti Una cifra impressionante E Fano non è da meno in questo triste decalogo Siamo andati a Sassonia e percorso un breve tratto di arenile Ed in mezzo a vari rifiuti per lo più di plastica Eccole lì, spiaggiate come tristi ricordi di ciò per cui sono servite E ne abbiamo trovate a centinaia Queste sono le reti che vengono utilizzate per la miticoltura, quindi per le cozze Sono in materiale plastico, praticamente indistruttibili Sono bastati pochi metri e una manciata di minuti per raccogliere tutte queste Ma dall'istituto di biologia marina fino alla pista dei co-cart è uno scempio È piena, la spiaggia è piena, l'arenile è pieno E il mare restituisce sempre quello che l'uomo purtroppo gli dà E questo non è sicuramente un bel dare Sono in materiale riciclabile, sì, ma non biodegradabile E rimangono nell'ambiente per decenni Provocando un grave danno alla flora marina Dovrebbero essere smaltite correttamente e non lasciate al loro destino o in balia delle marreggiate L'ambiente marino costituisce un patrimonio prezioso Che deve essere protetto, salvaguardato e, ove possibile, ripristinato E adesso passiamo dalla spiaggia alla pista ciclabile Fanno Finile Perché un nostro telespettatore ci ha segnalato che all'altezza di un incrocio La recinzione di un privato riduce la visibilità per gli automobilisti Creando un pericolo per i ciclisti in transito E noi siamo andati a verificare Ad essere in difficoltà questa volta sono gli automobilisti Per via di una rete di recinzione con protezione e siepi adiacente Che occlude completamente la visuale una volta arrivate all'incrocio con la pista ciclabile L'angolo cieco è proprio quello alla destra di chi guida E ciclisti e pedoni si scorgono solo all'ultimo momento Quando potrebbe essere ormai troppo tardi E ritroverseli sotto le ruote Se pensiamo poi all'altezza di una bici da bambino Possiamo solo immaginare le conseguenze disastrose Stiamo arrivando allo stop che incrocia la pista ciclabile Vedete io adesso praticamente col muso della macchina Devo arrivare fin sopra alla pista ciclabile Per vedere chi viene da questa parte Dalla parte di Fenile Però a questo punto se c'è una bicicletta che percorre la ciclabile L'urto potrebbe essere inevitabile Ma la difficoltà è anche per i ciclisti Che provengono da Fenile e vanno verso Fano Loro poi si devono proprio fermare Anche perché non vedono assolutamente chi sopraggiunge dalla strada Però dall'altra parte sulla sinistra La visuale è completamente libera Guardando quindi verso Fano Da questa parte invece questa rete che copre la recinzione Occlude completamente la visuale E quindi al lato destro non si vede assolutamente chi viene da Fenile I vigili del fuoco di Fano con l'ausilio dei colleghi di Pesaro Sono intervenuti oggi poco dopo le 14 in via delle Brecce In zona Baia Metauro a Fano Per soccorrere il conducente di un furgone Un GLS di Schieppe Che si era incastrato nel sottopasso ferroviario I pompieri hanno tirato fuori il mezzo con il vericello di una gru Nessuna conseguenza invece per il conducente di 24 anni Sono 2700 le assunzioni fatte nel 2016 nel sistema regionale sanitario Questo personale secondo il presidente Ceriscioli Permetterà di migliorare la qualità dei servizi Ma anche di ridurre le liste d'attesa Un rendiconto importante è quello degli assunti nell'anno 2016 Parliamo di 2700 assunzioni in sanità Una maggiore emissione fatta negli ultimi anni Abbiamo dato al sistema sanitario quella quantità di personale Che ci permette oggi di ripartire la grande coi servizi E i cittadini presto si accoggeranno di questa differenza Proprio per l'accrociamento della lista d'attesa Che è uno dei nostri obiettivi E una maggiore qualità nel servizio sanitario Portiamo numeri che non si vedevano appunto da anni E questo significa servizi Io credo che tutti quanti siamo soddisfatti di questa scelta Abbiamo portato il numero complessivo degli assunti Superiore a quello che è il tetto Che lo Stato ci dà come punto di rientro nel 2020 e passa E questo significa che oggi abbiamo in sanità A un numero importante di persone che possono seguire Anche la fase estremamente delicata dell'avvio della riforma A gennaio è partito il nuovo sistema sanitario Quindi accompagnare il cambiamento da un lato Aumentare i servizi dall'altro E rispondere a un bisogno molto forte all'interno delle strutture Di avere finalmente personale, giovane, disposizione Su quali puntare per il futuro Che è un mix fra assunzioni, stabilizzazioni, rinnovo di contratti E vi dicendo Quindi rispetto all'anno prima Un turnover del 128% significa che se sono andati in pensione O sono cessati per qualunque regione 100 persone Nel 2016 ne abbiamo assunte 128 E il 2017 è l'anno che vedrà effettivamente materialmente Diciamo questo risultato Quindi se ogni 100 che sono andati via ne hai 28 in più È il contrario di quello che è avvenuto per anni Dove ogni 100 andati via ne recuperavi 70 E accogliendo per primo in Italia L'appello rivolto a tutti i presidenti delle province Dal presidente del Lupi a Chille Variati Il consiglio provinciale di Pesaro e Urbino Ha dato mandato all'unanimità Al presidente della provincia Daniele Tagliolini Di presentare un esposto cautelativo Alla procura della Repubblica Alla Prefettura e alla Corte dei Conti Affinché vengano valutate eventuali condotte lecite Omissive e commissive Sui tagli definiti insostenibili A cui le province sono sottoposte ormai da quasi tre anni Tagli si legge in una nota Che non consentono di garantire La corretta manutenzione delle strade e delle scuole Funzione affidata alle province Dalla legge di riforma Studenti, pensionati, dipendenti pubblici Ma anche ingegneri, commercialisti Insegnanti e architetti Sono quasi 90 E tamidi a 50 anni La più giovane è Martina Sudentessa a 16 anni Nei più anziani Giorgio e Vittorio di 76 anni Gli iscritti a Foro Boario L'open space technology Promosso dall'amministrazione comunale Nell'ambito del progetto di piano strategico Hashtag Orizzonte Fano In programma sabato 4 marzo Dalle 9 alle 13 Nell'ex chiesa di Sant'Arcangelo E alla Mediateca Montanari La giornata si preannuncia storica Per la prima volta infatti I fanesi potranno mettere nero su bianco Le loro idee e i loro progetti Per la città del 2030 Permettere ad esempio Di creare gruppi di lavoro Ma comunque maggiori informazioni Le potrete trovare Nel nostro sito Occhio alla notizia.it Il tradizionale rogo Del pupo di piazza 20 settembre Oggi ha chiuso Ha salutato l'edizione 2017 Del carnevale di Fano Ha seguito per noi L'evento Lino Balestra Vediamo com'è andato Siamo in piazza 20 settembre Quello che vedete alle mie spalle È il pupo La maschera Che presto prenderà fuoco Con questo rito propiziatorio Che chiude il carnevale Siamo a Marte di Grasso La piazza è gremita È pienissima di gente L'operatore Filippo Pucci Vi farà una panoramica Di tutto quello che c'è qui in piazza In questo momento sta suonando sul palco Leo Maculand Trio Un trio di musica Soul Anni 70 Anni 80 In questo momento è la musica Che sta riscaldando gli animi Ma fra un po' A riscaldare gli animi E le persone sarà il rogo Che verrà fatto qui Per così Chiudere L'edizione 2017 Del carnevale Noi siamo qui Ve lo faremo vedere E poi la grande estrazione Per vincere L'Opel Che è il primo premio Della lotteria del carnevale Allora ci siamo a pochi istanti E il pubo prenderà fuoco E così archiviamo questa edizione Com'è stata? Se possiamo fare un piccolo bilancio È stata emozionante Una sensazione di gioia comune Veramente una leggerezza nell'aria Una serenità È stato bellissimo Una parentesi bellissima Ecco ora siete proiettati Per la prossima edizione Vi siete rodati Il meccanismo è partito Insomma Quindi insomma Adesso pensiamo Alla prossima edizione Eh sì Ormai abbiamo capito Come funziona Quindi Se quest'anno siamo stati una bomba Il prossimo anno Abbiate paura di noi Sì Con fuochi d'artificio Questa carnevalesca Promette Effetti speciali Speriamo che non distruggano tutto Però è un guaio No ma è giusto che sia così In fondo il carnevale è questo È allegria È movimento È festa È partecipazione E in quanto partecipazione Non possiamo che essere soddisfatti Perché veramente C'è stata tantissima gente Anche stasera la piazza Estracorma Quindi anche quest'anno Il carnevale è il VAR Ecco allora Siete riusciti nell'intento Che vi avevate preposti all'inizio Direi proprio di sì Veramente è stato emozionante Come diceva Flora E ci abbiamo messo Tanta grinta Tanta passione E continueremo su questa strada Perché vogliamo ancora di più Ma fanno città del carnevale Non finisce questa sera Siamo solo all'inizio Insomma Tanti programmi Tanti progetti La creatività per voi È un elemento essenziale Assolutamente Adesso bruciamo il pupo E ci diamo appuntamento Quest'estate Tenetevi pronti Che abbiamo tante bellissime idee Ciao E oltre al roggo del pupo Dal palco centrale Sono stati estrati I super premi finali Della lotteria del carnevale Allora guardiamo insieme I primi tre Partiamo da serie Gianduia Numero 56 Che vince una Opel Carle Poi serie Beppe Nappa 509 Ha vinto un quadro Del maestro Giorgio Antinori E al terzo posto Serie Colombina Numero 236 Che si è giudicato Un notebook Poi la lista completa Dei biglietti vincenti estratti La troverete sempre Sul nostro sito Occhio alla notizia.it Dopo la terza domenica Del carnevale di Fano Che ha fatto registrare Numperi da record Sono stati scelti Quattro vincitori Del challenge fotografico Carnevale di Fano 2017 Ai quali verranno donate Quattro tessere Con cui diventeranno Soci della carnevalesca Assicurandosi sconti Omaggi E l'opportunità Di partecipare Ad iniziative dedicate Esclusivamente ai soci Dell'ente Si tratta di Fede 87 Questa è una foto Pubblicata su Instagram Che ritrae La suggestiva sfilata Della luminaria Al centro della scena Il pupo di quest'anno E il selfie La seconda immagine È quella di Sonica 14 La foto esprime L'allegria Della musica arabita La singolare orchestra Del carnevale di Fano Che ha accolto I visitatori Che scendevano Dal treno a vapore Una delle novità Di quest'anno Passiamo adesso A Simo Arta 78 Un'altra foto condivisa Sui social network Che è immortale La bellezza Delle mascherate Che sfilano a seguito Dei carri allegorici E che rappresenta La voglia di traversirsi O di indossare Una maschera L'ultima invece È quella di Batlook 84 Con un maestoso gigante Di cartapesta Ha divertente sfida Colpi di click Ha coinvolto il pubblico Per tutta la durata Dell'evento E ha dato la possibilità A otto fortunati vincitori Di salire Sui carri allegorici E vivere la Kermes Da una prospettiva unica Cambiamo argomento Perché giovedì Una delegazione Di quattro podisti Cappeggiata dal sindaco Massimo Seri Volerà negli Stati Uniti D'America In occasione Del gemellaggio Tra la Colle Marathon E l'analoga corsa americana Colle Marathon Sbarca negli States Fra pochi giorni Come vi apprestate A vivere Questa avventura È una bella uscita Che facciamo insieme Al sindaco A Massimo Seri Siamo in quattro Che andiamo là Oltre che A fare promozione Per il turismo Di quello che facciamo Da tempo Correremo anche Mezza maratona A maratona 10 km Quindi siamo presenti E correremo anche In quel contesto lì E poi ci sarà Un gemellaggio C'è uno scambio Di doni Insomma adesso C'hai nelle mani Una maglietta Di chi vi starà Vicino Un bel momento Una pagina bella Dello sport È vero Un bel momento È una maglietta Che noi portiamo A Chattanooga Quindi doneremo Una diecina Di queste magliette A questa gente Che verrà qua Quindi è un bel momento Dove tutti insieme Vogliamo creare Qualcosa di importante Per la città di Fano Per il territorio Oltre alla promozione turistica Anche Come dico Solidarietà E soprattutto Amicizia Il ministro Dell'istruzione Della ricerca Valeria Fedeli Ha inaugurato oggi A Pesaro L'anno accademico Del conservatorio Gioacchino Rossini Puntiamo alla Riorganizzazione territoriale Dell'insegnamento musicale Ha detto il ministro Con l'integrazione Tra conservatori E scuole Primarie E secondarie La messa a regime Dell'alta formazione È un impegno vero Assicurato Per il 2017 Inoltre Sono stati erogati 15 milioni Per favorire Gli acquisti Di nuovi strumenti musicali Nelle scuole I finanziamenti Per le celebrazioni Del centocinquantesimo Di Gioacchino Rossini Ha poi detto Fedeli Devono arrivare In tempi rapidi E il patrimonio culturale Che ruota attorno a Rossini Va rilanciato A maggior ragione In una fase In cui Parsa e delle Marche Soffrono Per le conseguenze Del sisma Rimaniamo sempre Sulle scuole Perché quella primaria Di Sant'Ippolito Si è giudicata Il secondo posto Ad un concorso nazionale Che ha come finalità La salvaguardia Dei dialetti locali Federico Fellini Diceva Il dialetto È la testimonianza Più viva Della nostra storia È l'espressione Della nostra fantasia Persino il sommo poeta Dante Alighieri La chiamava La lingua materna Il dialetto Vernacolo Non è una declinazione Al negativo dell'italiano Ma una lingua Di pari dignità Che si è evoluta Parallelamente a questo Direttamente dal latino Tanto che esiste Anche una giornata Nazionale del dialetto Il 17 gennaio Promossa Dalle umpli nazionali La Proloco di Sant'Ippolito Che rappresento Da anni Partecipa A questo progetto Salva la tua lingua Locale Organizzato Dall'umpli nazionale Con il patrocinio Del senato Della repubblica E dell'unesco Il compito Della Proloco È quello Di tutelare Il patrimonio Immateriale E quindi salvaguardare Tutto ciò Che fa parte Della ricchezza Locale Noi come Proloco Non abbiamo fatto altro Che organizzare Assemblare Seguire passo passo Il lavoro Prezioso Condotto Dalla maestra Fabia In questa classe seconda Partecipando quindi Al concorso Da molti riconosciuto Come un patrimonio Da conservare E preservare Nonché da tramandare A chi Se non ai giovani È proprio per rispondere A questa esigenza Che la Proloco Di Sant'Ippolito Con la scuola primaria Mercantini Partecipa Al concorso nazionale Salva la tua lingua locale Indetto Dall'umpli Gli alunni Della seconda A Con due poesie Picnic E la benedizione Assieme alla loro Maestra Fadia Fugazza Si sono aggiudicati Il secondo posto Exequo Con la regione Friuli-Venezia-Giulia Il dialetto locale Fa parte Della cultura E della storia Del paese Di Sant'Ippolito Purtroppo Oggi Certe conoscenze Si stanno disperdendo E secondo me Vanno recuperate Ritengo Che i nostri giovani Debbano Rimanere legati Alle radici Culturali Storiche E ambientali Del proprio territorio A coronamento Di questo Belle risultato Gli alunni La maestra E la dirigente Eleonora Ugello Sono stati ricevuti Al Campidoglio Il 9 febbraio scorso Per ricevere il premio Innanzitutto Devo dire Che sono orgogliosa Di questi Meravigliosi bambini Che ci hanno dato Questa grande soddisfazione Sono orgogliosa Della maestra Che ha accolto Al volo L'invito Come ogni anno L'invito Della Proloco Con la quale Siamo sempre Lieti di collaborare Proprio perché È il ponte Tra la tradizione Culturale Di un popolo Di un paese Di una cittadinanza E i bambini Che crescono E quindi si devono formare Domenico Il pre Da su cima E dal terra Ha detto Che passa Bene di casa E pure Mamma E nona E la Tut Su re E Quanto Come avete visto Anche oggi Nel nostro Telegiornale Ci siamo occupati Delle vostre Segnalazioni Ma per noi È molto importante Riceverle Per cui Al numero che vedete In sovraimpressione Inviateci foto O video Anche un semplice Messaggio di testo Io vi ringrazio Per l'attenzione Perché per l'informazione È tutto Arrivederci a domani Per l'attenzione Iscriviti